Questo esperimento dimostra il fenomeno dell'induzione elettrostatica, il fenomeno dell'elettrizzazione per contatto ed il fenomeno dell'elettrizzazione per strofinio. L'elettroscopio a foglie d'oro è uno strumento che permette di stabilire se un corpo è carico elettricamente. Esso è costituito da un pomello di ottone, che è un buon conduttore di elettricità. Collegato attraverso un'asta dello stesso materiale a due sottili lamine d'oro, indicate con il termine foglioline d'oro, che sono racchiuse in un recipiente di vetro per isolarlo dall'ambiente esterno. Il tutto è appoggiato su una base isolante di legno. L'ebanite è un materiale isolante ricavato per vulcanizzazione prolungata da una miscela di gomma naturale e zulfo. Profinando la bacchetta di ebanite sulla pelle di gatta, essa si carica negativamente poiché acquista, grazie al fenomeno dell'elettrizzazione per strofinio, elettroni dalla pelle di gatta. Avvicinando il corpo carico elettricamente al pomello di ottone, facendo attenzione a non toccarlo, grazie al fenomeno dell'induzione elettrostatica, le cariche che inizialmente erano equamente distribuite sul pomello di ottone si ridistribuiranno in modo tale da avere un accumulo di cariche positive sul pomello. Questo perché le cariche negative presenti sul pomello verranno in parte allontanate dalle cariche negative presenti sulla bacchetta di ebanite. Nella parte inferiore dell'asticella, in particolare sulle foglioline d'oro, si avrà invece un accumulo di cariche negative. Essendo le foglioline d'oro collegate elettricamente, si caricheranno con lo stesso segno, per cui si respingeranno dando modo di osservarne la divergenza.